Gioia mia, Cristo è risorto! Così San Serafino di Sarov salutava i suoi visitatori in ogni momento dell'anno ed è con la gioia della certezza della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte che entriamo in questo giorno di Pasqua chiedendo al Signore che risusciti un po' i nostri cuori tirandoci fuori dai nostri sepolcri. Siamo di domenica mattina, le donne vanno di buon'ora al sepolcro pensando di trovare il corpo esanime di Gesù e di poterlo ungere, compiendo un ultimo atto di tenerezza nei suoi confronti. Il problema è il sepolcro chiuso, sigillato da una pietra pesantissima, sorvegliato dai soldati romani, un sepolcro chiuso separa le donne da Gesù. Come diceva Don Tonino Bello, ognuno di noi in fondo ha il suo macigno, una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare l'ossigeno, che opprime in una morsa di gelo che impedisce la comunicazione con l'altro. È il macigno della violenza, della solitudine, della miseria, di quella malattia che ti consuma inesorabilmente, dell'odio che ti corrode, della disperazione, di quel peccato che ti rende schiavo. Ci potremmo chiedere qual è il masso che oggi, in questo momento, occlude il nostro cuore? Arrivate al sepolcro, le donne si misurano con un fatto che ha del paradossale. Trovano il sepolcro aperto e non trovano il corpo di Gesù. L'evangelista ci dice che erano incerte. Il verbo usato è aporein, da cui viene aporia, indica qualcosa che sembra contraddittorio. C'è qualcosa che non è districabile con i soli ragionamenti. La risurrezione non era qualcosa di inventabile o di umanamente comprensibile. Gesù aveva risuscitato alcuni a questa vita mortale, come Lazzaro, ma ben diverso era credere che lui stesso sarebbe risorto dai morti, entrando in una qualità di vita totalmente altra. In fondo la risurrezione non è qualcosa che è frutto degli sforzi dell'umanità. La risurrezione di Cristo è un'esplosione di vita, di luce, è come una nuova creazione. Il padre che interviene nella storia, spalancando il sepolcro, risuscitando il figlio nello spirito. La risurrezione di Gesù, come ci ha ricordato il Papa, non è il finale lieto di una bella favola, non è l'happy end di un film. La Pasqua è un evento relazionale, è l'intervento di Dio padre, là dove si infrange la speranza umana a favore del figlio, che si è sempre fidato di lui, compiendo in ogni istante la sua volontà, consegnandosi per noi sino alla morte. E Gesù non è rimasto deluso, è passato da questo mondo al padre. Anche noi possiamo fare Pasqua passando dall'io a Dio, aprendoci al padre, a quel padre che ci ama teneramente, potentemente, fedelmente, quel padre dinanzi al quale ogni umana paternità balbetta, quel padre dalla mano del quale nessuno ci può strappare. L'inganno è pensare di poter risolvere la nostra vita da soli, senza di lui. Passiamo la vita cercando di dimostrare di essere all'altezza, bravi, forti, coerenti, cercando qualcosa che ci dia vita e ci dia valore, attacchiamo il cuore qui e lì, fallendo miseramente. La verità è che siamo fragili, deboli, vulnerabili, e ciò ci è dato in dono, perché diventi porta di accesso al padre, perché possiamo lasciarci amare e salvare da lui. La verità è che io da solo non mi cambio il cuore, da solo non risolvo i drammi della mia vita, da solo non sfondo il muro della morte. Cosa mi annuncia la Pasqua? Che posso uscire dalle mie morti, dai miei peccati, dai miei logori interiori, arrendendomi all'amore di Dio, lasciandogli il volante della mia vita. Lui, che è più grande del nostro peccato, è più grande di tutto ciò che ci può angustiare e preoccupare. Verete, miei cari, la Pasqua non è qualcosa da sapere, che ti metti in tasca e sei a posto. Una bella mangiata, una colomba scambiata, qualche frase sdolcinata, casomai una messa distrattamente ascoltata e via. La risurrezione, potremmo dire, è qualcosa da vivere. Il risorto è vivo e vuole entrare nella nostra vita e con la sua potenza d'amore risuscitare anche noi, ora a vita nuova, perché vivendo in comunione con lui possiamo vivere da risorti, liberi dal male, liberi di amare. Egli viene per spalancare i nostri sepolcri, per dirci come a Lazzaro, vieni fuori, vieni fuori dal tuo peccato, lasciati perdonare, vieni fuori dalla tua tristezza, lasciati consolare, vieni fuori dal tuo lamento, è ora di donare, vieni fuori dalla tua rassegnazione, è ora di ricominciare. Tornando al Vangelo, le donne si devono quindi misurare con un fatto, il sepolcro vuoto, quando ecco l'irruzione di Dio, mediante un segno angelico incarnato in due uomini che appaiono vicino a loro in vesti sfolgoranti. Per le donne non è ancora chiaro, tant'è che sono spaventate. Pensate, sepolcro aperto, angeli, tanti segni visibili ma ancora non bastano. Come a dirci che qualsiasi segno esteriore, visibile, per quanto forte e importante sia, da solo non basta. Ci vuole sempre il sì della persona, l'adesione del cuore. Noi tante volte pensiamo che basti vedere per essere a posto, ma non è così. Non è stato così nemmeno per gli apostoli, che dubitavano persino mentre Gesù risorto era davanti a loro. Quante persone vedono tante cose, ma rimangono ferme lì. Quante persone ricevono ad esempio parole e segni nella loro ricerca vocazionale, ma non bastano. Quante volte Dio concede consolazioni e grazie, ma non si riesce a riconoscere la sua presenza. La luce per le donne arriva grazie alle parole di Dio che dicono i due angeli. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. E poi ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea? Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne devono passare dal vedere all'ascoltare, accogliendo e facendo memoria delle parole di Gesù. Quelle parole le conducono a prestare fede a Gesù e a ritrovare luce nel loro buio, senso nel loro non senso. Perché questo fa la parola di Dio nella nostra vita. Rischiara le nostre tenebre, illumina i passi del nostro cammino, restituendoci alla luce della verità. E quelle che gli angeli rivolgono alle donne sono parole luminose, capaci di accendere anche i nostri cuori. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Sentiamole rivolte a noi, applichiamole alle zone di morte che stiamo vivendo. Ad esempio, perché pensi che Dio sia morto nella tua vita solo perché le cose non sono andate come avresti voluto? Perché cerchi quella persona defunta tra i morti e non presso colui che è vivo e dà vita? Perché ti disperi pensando che oramai hai fallito e che non ci sia più possibilità alcuna per te. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Sì, il Dio della vita non è lì, non è nel sepolcro, ma è accanto a noi, si rende presente tra noi, specie nella liturgia, pronto a stringerci a sé per fare sue le nostre piaghe e dirci coraggio, io faccio nuove tutte le cose. Cari fratelli e sorelle, come disse Don Tonino Bello, il Signore è risorto proprio per dirvi che di fronte a chi decide di amare non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via, perché c'è una vita nuova che Egli ci viene a donare con Lui. È possibile ricominciare sempre, anche dalle rovine del nostro cuore. Dio può far sorgere un capolavoro d'amore. Gioia mia, Cristo è risorto, è veramente risorto, alleluia, auguri di vero cuore e che il Buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.